Buonasera a tutti gli spettatori di Le Fonti TV e bentrovati. Proseguono gli appuntamenti della nostra HR TV Week, una settimana totalmente dedicata al mondo del lavoro. Tra le diverse realtà che si sono distinte per eccellenza e innovazione, ce n'è una in particolare oggi che merita la nostra celebrazione. Ma andiamo alla premiazione. Macro categoria Imprese, categoria HR. Il premio è direttore dell'anno Food & Beverage. Il premio va a... Emiliano Maria Cappuccitti, People & Culture Director Coca-Cola HBC Italia. Ma andiamo a leggere la motivazione. Per l'impegno costante nel creare le migliori sinergie per lo sviluppo personale e organizzativo, è una squadra sempre vincente. Per valorizzare la diversità, l'inclusività, l'impegno e lo sviluppo delle singole competenze. Ed eccolo, abbiamo in collegamento con noi il dottor Cappuccitti, a cui naturalmente do il benvenuto e tanti complimenti per questo riconoscimento. Salve a tutti. Salve. Grazie, grazie mille. Sono molto felice di questo riconoscimento e non me l'aspettavo. Grazie davvero. Ecco, dottor Cappuccitti, nella motivazione abbiamo individuato, sottolineato alcune parole chiave come diversità, inclusività, sviluppo delle singole competenze. Ma secondo lei, ecco, quali caratteristiche in particolar modo un'azienda deve avere per mantenere il suo appeal, la sua attrattiva, nei confronti soprattutto delle nuove, giovani generazioni di lavoratori? Noi possiamo trattare tutte le persone allo stesso modo, ogni persona è diversa e soprattutto se parliamo di generazioni molto diverse tra di loro, dalla persona che entra in un'azienda che ha 22 anni alla persona 60enne, quindi possiamo dire che uno potrebbe essere il nonno della persona che è entrata. Quindi non possiamo offrirgli le stesse cose perché hanno bisogni diversi, aspettative diverse. Quindi le aziende, secondo me, devono necessariamente differenziare l'offerta quando assumono le persone e quindi offrire dei percorsi. Per esempio, le nuove generazioni a cui faceva riferimento lei, è chiaro che io devo poter offrire un percorso, una prospettiva di crescita nazionale e internazionale che sia particolarmente appealing. E poi devo retribuire queste persone in maniera assolutamente diversa. Quindi, secondo me, la parola chiave è personalizzazione. Certo. Ecco, un'altra parola chiave per quanto riguarda il mondo del lavoro attuale è digitalizzazione insieme a flessibilità, ma non solo per il momento presente e soprattutto per quanto riguarda anche il futuro. E a proposito di futuro, lei come vede il mondo del lavoro e delle risorse umane nei prossimi 5-10 anni? Il mondo del lavoro è sicuramente un mondo in grandissima trasformazione. C'è stata l'accelerazione digitale, soprattutto nel periodo della pandemia. Vedo un mondo del lavoro dove non decidono soltanto le aziende chi assumere, ma ovviamente fanno un ruolo importante e lo tengono le persone stesse. Perché a un certo punto, se l'azienda non mi offre la flessibilità, lo smart working, la possibilità di connettermi da dove voglio e quindi fare un periodo in ufficio, un periodo a casa, difficilmente accetterò quell'offerta di lavoro. Poi è chiaro che dipende da lavoro a lavoro, da industria a industria, però generalmente i ragazzi di oggi, le ragazze di oggi, cercano un approccio, cercano un mondo del lavoro, cercano un'azienda che sia molto più vicina alle dinamiche attuali. Quindi il mondo del lavoro si sta evolvendo sempre di più e flessibilità e fungibilità, secondo me, sono due parole fondamentali. Flessibilità da parte delle persone, ma flessibilità anche da parte dell'azienda. Il mondo HR, di conseguenza, non è che si deve adattare, cioè deve cercare di prevenire quelli che sono i bisogni che vengono fuori dalle nuove generazioni, ma non solo dalle nuove generazioni, ma anche dalle persone che sono già all'interno del mondo del lavoro. E quindi bisogna, secondo me, cogliere tutti i segnali che già stanno venendo da paesi un po' più evoluti di noi, tipo per esempio i paesi nordici, su come organizzare la settimana lavorativa. Quindi è un futuro molto interessante, molto incerto, molto instabile, dove appunto la tecnologia e la flessibilità la faranno da padrone. Ma secondo me c'è anche un terzo aspetto che la farà da padrone, è l'adattabilità. Ecco, dottor Cappucitti, in un mondo così profondamente rivoluzionato dal Covid e dalla tecnologia, c'è anche bisogno di ripensare il concetto di leadership proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, magari un passaggio dal controllo alla cura, che cosa ne pensa? Assolutamente, i leader devono essere meno egocentrici e più orientati alle persone, devono generare energia piuttosto che, diciamo così, assorbire energia, e soprattutto devono essere dei leader umili, i leader che ascoltano le persone, e ripeto ancora una volta, che hanno un ego un po' più ridotto rispetto a quello del passato. Quindi la cura della persona, la cura autentica della persona, è anche un altro fattore distintivo del leader del futuro. E il leader poi deve essere un leader credibile, cioè quello che dice deve poter fare, ma questa non è assolutamente una novità. Quindi il leader d'oggi deve essere un leader un po' che, come dire, se la deve, passatemi la parola, se la deve tirare un po' di meno rispetto al passato. Chiarissimo, la ringrazio dottor Cappucciti, e ancora naturalmente tanti complimenti per questo riconoscimento, ormai insomma lei è un punto di riferimento per il mondo dell'HR, quindi lo aspettiamo alle prossime edizioni naturalmente degli Awards. Lei ci sarà, vero? Spero di sì, se me lo merito sì, grazie mille, grazie veramente per il riconoscimento. E allora ringraziamo il nostro ospite Emiliano Maria Cappucciti, People and Culture Director Coca-Cola HBC Italia, per essere stato qui con noi, nostro ospite di Le Fonti Awards. L'appuntamento con la nostra premiazione termina qui, ma non la programmazione di Le Fonti TV, quindi mi raccomando, restate con noi. Grazie a tutti.